Matteo Salvini che avrà anche nelle slide da mostrarci, un quarto d'ora, 20 minuti, sa perché Ministro? Perché io ho un aero da prendere alle 15.30, se lo perdo il dottor Cairo giustamente mi manda a casa. Se Cairo ti lascia a casa ti sostituisce con Fazio, non c'è problema. Spero che tu abbia il suo stipendio anche. Io fossi in te un pensierino ce lo farei, viste le cifre che girano. Nei prossimi anni l'Italia vivrà una rivoluzione positiva, infrastrutturale, economica, sociale, ambientale e lavorativa che è paragonabile solo al boom del secondo dopoguerra. Se la CGL critica questo codice degli appalti vuol dire che è un codice degli appalti fatto bene. Se i professionisti del no dicono che qualcosa non funziona vuol dire che sblocca tante opere ferme da troppo tempo. Ho scoperto che c'è questa nuova categoria filosofica dopo i terrapiattisti, i no pontisti. La morte di Silvio Berlusconi non è stata la morte di un alleato politico ma è stata la morte di un amico. E io penso che mancherà al paese, mancherà a chi lo conosceva e gli voleva bene, mancherà anche a chi lo odiava perché adesso dovranno ricollocarsi. Però penso che abbiano già parecchi obiettivi a loro disposizione. Se la politica dovesse lavorare in base all'inchiesta di report del fatto quotidiano saremmo un paese delle banane. E quindi per quello che mi riguarda do massima fiducia ai colleghi in carica perché l'ho vissuto sulla mia pelle. C'è il tema casa, a cui noi stiamo lavorando da otto mesi, non in base alle tendopoli davanti al Politecnico di Milano, evidentemente perché abbiamo una programmazione che prescinde dalla volontà scautistica di qualche studente. E se non puoi dragare i fiumi, non puoi togliere la ghiaia dal freddo dei torrenti e poi l'acqua fa il suo. Questo non è ambientalismo come i cretini che si stendono sulla tangenziale o sul raccordo anulare. Quelli non sono ambientalisti, quelli sono nemici dello sviluppo del nostro paese. Il mio impegno, e farò tutto quello che è possibile fare per mantenerlo, ma sono sicuro che andrà così, questo governo dura per tutti i cinque anni che gli italiani ci hanno mandato che durasse. Non un minuto di meno. Io leggo ricostruzioni surreali e devo dire che in Silvio, in Antonio e in Giorgia sto trovando non dei colleghi, ma degli amici. Più provano con ricostruzioni fantasiose surreali ad allontanarci, più ciniscono. Ci sentiamo due, tre, quattro, cinque volte al giorno. Andrei avanti ore e ore, però vedo facce un pochino affamate. Fuori è brutto, sta piovendo, sta deluviando. Avete scelto un brutto posto dove fare l'assemblea in un brutto albergo. In un brutto clima, in una brutta città. Sono molto bravi a farsi sentire i signori del no. Io sono sicuro che se hai detto adesso accendete un Tg, è Landini, è Tizio, è Caio, è Sempronio, perché quelli del no, no Tav, no Ponte, no Flat Tax, no Autonomia, no Brennero, no Alta Velocità, no Quino, là, sono bravissimi, pochi, organizzati, spesso ignoranti, spesso arroganti, ma molto presenti. Probabilmente perché quelli del sì passano le loro giornate lavorando e non hanno gran tempo per comunicare, per come... Grazie.